Solo una settimana fa era stato presentato il nuovo servizio di raccolta rifiuti a Trinitapoli, avviato lunedì scorso 2 novembre. Da questa mattina però la Tecno Service è stata costretta a ridurre all'essenziale quel servizio. Un incendio, sulla cui natura dolosa gli inquirenti avrebbero pochi dubbi, ha piccato nel cuore della notte, ha distrutto gran parte del parco mezzi ed il capannone del centro comunale di raccolta. Di 11 mezzi, come è stato accertato subito dopo lo spegnimento delle fiamme, quattro sono andati completamente distrutti, mentre sette sono comunque inutilizzabili a breve perché anneriti dal fumo. E' ancora da quantificare il danno per l'azienda. Episodio criminale ed inquietante al tempo stesso, sul quale sono state già avviate le indagini dei carabinieri con i rilievi effettuati dal reparto della scientifica, mentre un contributo arriverà anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver registrato i movimenti attorno al cantiere. Nessuna pista di indagine viene esclusa dai carabinieri. Sul posto, per diverse ore, hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco che hanno a loro volta allertato i carabinieri con una telefonata al 112. Con i mezzi risparmiati dalle fiamme, gli operai della Tecno Service hanno potuto garantire nella giornata di oggi il servizio di raccolta rifiuti. Il sindaco di Trinitapoli Emanuele Losapio ha immediatamente convocato, d'accordo con la prefettura, un vertice d'urgenza dell'osservatorio sulla legalità. È un episodio da condannare fermamente quello che è successo l'altra notte all'interno del centro comunale di raccolta di Trinitapoli dove sono stati incendiati i mezzi della ditta Tecno Service. Alla società che da lunedì raccoglie i rifiuti a Trinitapoli va la mia piena solidarietà, la solidarietà di tutto il Consiglio Comunale e dell'amministrazione. Va la mia solidarietà anche ai lavoratori che comunque oggi hanno garantito il servizio, è dimostrazione che non ci fermiamo e non ci faremo piegare rispetto a questi atti intimidatori. Ho avuto modo di parlare stamattina con la prefettura ed abbiamo fissato già per la prossima settimana un appuntamento con l'osservatorio della legalità. Mi ha informato anche il prefetto che nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza si parlerà di questo gesto e atto gravissimo avvenuto a Trinitapoli quest'oggi.